30 agroppi, 1000 colori e un gormone di gente lunga via la strada di Pareda che battea le mani. Nel summeda della gran festa da distà che però non basta per dar conto di quel gran spettacolo che vignano dal 1979 alla fine della bella stagione porta a Cianacei troppi ghiacci, mazoralduti, i fassi e il muoio della ditta. Un spettacolo si bello e pieno di allegria e colori che in quel scuro di Nigole che si ha dato la buona ora se ci arriva di Aga ha bello con gli spettari e guardare. Un'edizione, la 32esima, che non è il paese degli anni, una festa che è la medema vignante ma che ogni edizione porta sempre a Cianacei. Muda i tempi e muda i presidenci, Silvano Planckesteiner toglie il posto di Paolo Casagrande. E non c'è i groppi e il pass con troppi giochi perché non c'è la musica del tendone costare il pass delle generazioni. Una piccola rivoluzione incendina l'ora di Marena con l'elettronica che c'è a papè anche le ricette della tradizione. Cattardizze di fiesta che si sa bene piace ai ghiacci che c'è il prodotto tipico ma che è buono di mettere a doma tutte le generazioni dei fassi, piccoli e gregi, veie sezioni per un'occasione straordinaria di aggregazione, una maniera viva e sciantifa di vivere e tramanare la tradizione. Una festa bella in Ciancastan, una festa che è diventata, una festa che non è una festa folcloristica ma è una festa che si trova insieme per dire che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione. C'è un momento in cui le piccole identità sono tutte le vecchie mette in discussione. Allora questo non è un buon momento da cartolina ma è un buon momento di riaffermazione, di dire a fondo che è la questione che facciamo. A versare la defilata e slarare fuori la gente, le pallici, subito da, le bandiere ladine e della Val de Fascia, per un bocone di quella marmitta dei colori della defilata. Il confalone dei studi a Feca e della Croce Abienza di Cianacei ricorda che le gruppi che vengono si dà le mani intorno per tirare sul tendone, far da mare e far sì che tutto va pulito e a posto. La festa dell'istate di Cianacei è quella che strutta su tutte le feste che ha un intervallo, quella dell'identità e del folklore e con questo volevo dire un grande bel paio a tutti i volontari che già lavorano a queste belle manifestazioni, a queste belle scomenzarie, da Antapenia fino a Moena. Grande bel paio a tutti per la vostra muriera ma solo per la vostra passione. La gente, lunga strada, piena di mare e via, ha seguita a fotografare e a battere le mani. incantata dai guanci della tradizione. Mondure, che non è bella una maschera da far vedere ai foresti, ma guanta portà con l'onore il sentimento dell'appartenenza al popolo e alla tradizione. La pievia, che minaccia da tutto il giorno, ha provato pian piano a far sentire. Senza successo, ha già che moglie avverte le ombrelle, ma peggio ha seguito il pass. Iniziamo al gran concerto, con l'emozione di sentire suonare ad uno, passa a 400 strumenti. Il bambino, posato dalla bacchetta del maestro, e Encele Nigole ha potuto fare suo mestiere con una piuetta fitta. Un bel accompagnamento per una maniata in balzo del tail bianco e brun, dell'ambiente sud e a Jäger del tendon. Il bambino, posato dalla bacchetta del maestro, e Encele Nigro ha potuto fare suo mestiere con una piuetta fitta. Il bambino, posato dalla bacchetta del maestro, e Encele Nigro ha potuto fare suo mestiere con una piuetta fitta. Grazie.